Il BioVegetal è un biofertilizzante innovativo che restituisce vita alla terra. Il suolo è un bene comune, è una risorsa preziosa per l'agricoltura, l'ambiente e il clima. BioVegetal è in grado di preservarlo, contrastando la desertificazione e la perdita di fertilità dei terreni a causa dei cambiamenti climatici e dell'uso indiscriminato dei prodotti di sintesi chimica. La riduzione delle superfici agricole e il simultaneo aumento del fabbisogno alimentare rischiano di avere ricadute negative sull'approvvigionamento del cibo. In questo contesto, BioVegetal svolge un ruolo fondamentale perché compensa la scarsità di terreno con l'aumento della produttività. Grazie alla sua sostanza organica, BioVegetal si prende cura della terra e ripristina l'equilibrio chimico, fisico e microbiologico del suolo aumentando la resa del raccolto e migliorando lo stato vegetativo delle piante. BioVegetal è un fertilizzante completamente naturale frutto di un processo innovativo di trattamento dell'umido organico e degli scarti di parchi e giardini. La provenienza sicura delle materie prime, i rigorosi controlli sui processi di produzione e l'innovazione degli impianti fanno di BioVegetal il prodotto ideale per coltivazione di qualità. L'efficacia di BioVegetal è legata alla presenza di tre tipologie di microorganismi che nutrono la pianta e la difendono dalle malattie. La prima tipologia è composta da microorganismi in grado di fissare l'azoto, cioè trasformarlo dalla forma gassosa alla forma assimilabile dalla pianta, aumentando la produttività del raccolto. La seconda tipologia è costituita da microorganismi che rendono disponibili all'apparato radicale gli elementi minerali insolubili presenti nel terreno, migliorando lo stato vegetativo della pianta. La terza tipologia è formata da microorganismi che aiutano la pianta a difendersi dalle malattie, favorendo la soppressione naturale della flora fitopatogena. Rispetto a un colcime minerale o di sintesi, BioVegetal apporta sostanza organica in grado di ristabilire l'equilibrio fisico-chimico e microbiologico del terreno. In uno stato di equilibrio ottimale, il terreno trattiene l'acqua e gli elementi nutritivi, riducendo drasticamente il fabbisogno di irrigazione. Valorizzare le risorse idriche ed evitare gli sprechi rappresenta un vantaggio primario per l'agricoltura, soprattutto in tempi di siccità. Da un punto di vista ambientale, BioVegetal contrasta l'effetto serra, perché la sostanza organica trattiene carbonio nel suolo in forma stabile e a lungo termine, sottraendolo all'atmosfera, ed evita l'impoverimento e la desertificazione dei terreni. Grazie. 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 Grazie.